Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale e allora iniziamo il nostro consueto focus con i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare. Territorio, semplificazione in vista del PNRR, nuova legge approvata dall'Aula. Rigenerazione Toscana, dal Consiglio 1.750.000 euro per i giovani. Territorio e ambiente, l'aeroporto di Firenze in quarta commissione. Semplificare l'iter burocratico per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in vista dei progetti legati al PNRR e al PNC, il Piano Nazionale degli Investimenti Complementari. Questo l'obiettivo della nuova legge approvata in Consiglio regionale che modifica il testo della legge Marson sull'urbanistica, lungo il dibattito in Aula e non senza polemiche. Con questa legge noi abbiamo innanzitutto raccolto la preoccupazione degli enti locali, dei sindaci che entro la fine del prossimo anno devono progettare ed impegnare le risorse collegate ai fondi del PNRR e chiedono semplificazione. Noi abbiamo promosso questa legge con l'intento di ridurre i tempi, di semplificare le procedure laddove occorre una variante urbanistica. Non si tratta di nessuno stravolgimento, sarà una legge limitata nel tempo collegata al PNRR e limitata negli effetti perché sarà limitata alle opere finanziate con questo strumento che rappresenta, lo ricordiamo, un'occasione per la Toscana e l'interesse di tutti noi, della Toscana, è quello di portare tante risorse e investimenti del PNRR nella nostra regione e far sì che questi si trasformino in opere rapidamente e nei tempi imposti dall'Unione Europea. A Italia Viva è stato il primo partito presente in Consiglio regionale a depositare una legge per modificare la legge Marzon, la 65 del 2014, noi l'avremmo voluta abolire completamente. Bene, comunque un passaggio importante che semplifica le opere pubbliche dei comuni, soprattutto quelle finanziate dal PNRR. Le opere che devono essere realizzate in tempi celi devono avere un procedimento veloce e semplificato via la burocrazia. Si arriva a fare finalmente una legge che tanti sindaci hanno chiesto, tanti comuni, tanti enti per fare delle opere pubbliche importanti per la Toscana. Ovviamente noi chiediamo di fare di più, di eliminare anche le conferenze di copianificazione non soltanto per le opere del PNRR ma per tutte le opere della nostra regione e quando anche a livello nazionale ci siamo mossi noi per fare il piano shock delle opere pubbliche sono arrivati i commissari e le opere sono partite. Questa è la politica che Italia Viva ha sempre fatto, è il motivo per il quale noi con forza votiamo questa legge, consolidiamo la maggioranza, fa piacere che anche altri partiti del centrodestra ci vengano vicino a questa posizione e abbiamo trovato una netta distanza con i Cinque Stelle e questo certifica fondamentalmente una distanza netta di politiche rispetto a quello che a livello nazionale dovrebbe essere un partito che in realtà sostiene il governo Draghi. Noi siamo coerenti a livello di Roma, a livello di Toscana, vogliamo il PNRR, vogliamo gli investimenti, vogliamo velocizzarli ma soprattutto vogliamo fare sviluppo della Toscana, creare ricchezza e arrivare a ridistribuirla. La posizione su una semplificazione per i progetti che dovranno essere fatti sui nostri territori con i finanziamenti del PNRR chiaramente non ci può trovare contrari. Quello che ci preoccupa è che alcune decisioni e alcune modifiche alla normativa urbanistica regionale come questa proposta di legge che abbiamo discusso oggi in aula è un problema di tipo diverso perché pone un'attenzione che deve essere rivolta ai territori e in particolare noi abbiamo preso posizione per quello che riguarda le amministrazioni comunali. Noi non vogliamo che le decisioni che devono essere presi su alcuni progetti importanti passino sopra la testa dei territori e delle amministrazioni comunali. Quindi chiediamo che i consigli comunali siano parte attiva e integrata di quei procedimenti complessi che purtroppo una normativa urbanistica regionale come quella che abbiamo noi pongono in essere in maniera molto rilevante. Non vorremmo che poi ci trovassimo conseguentemente ad opere che devono essere giustamente fatte come penso alle case della salute ma penso anche a tante opere infrastrutturali come organi proponenti che possono essere la regione e lo Stato ma qualora non siano i comuni che i comuni siano parte decisoria, efficace e importante e decisiva di queste opere. Siamo assolutamente favorevoli a semplificare i passaggi burocratici per rendere operativi i fondi del PNRR perché è bene che i cittadini sappiano che fino ad oggi molto si è discusso tanti progetti, tante idee sono state presentate ma poi quelle idee, quei progetti vanno come si dice calati sul territorio. Per farlo bisogna rispettare le norme. Ebbene la regione toscana negli ultimi vent'anni ci ha abituato a caricare di norme, di passaggi burocratici di piani, contropiani, verifiche, tutti i passaggi e tutte le singole opere edilizie basti pensare a quello che deve fare un povero cristiano per spostare una finestra di 50 cm in regime di vincolo paesaggistico poi ad un tratto si sono resi conto che non sono in grado di gestire questa congeria enorme di norme e quindi vogliono sostanzialmente spazzare via il passaggio dei consigli comunali laddove la realizzazione di questi progetti comporti variante alla pianificazione urbanistica. Noi su questo non siamo d'accordo, così come non siamo d'accordo nell'eliminare la VAS, la valutazione ambientale strategica soprattutto per i progetti di più ampio impatto sul territorio perché diventa una contraddizione clamorosa applicare i progetti del PNRR che come sappiamo è il Green Deal cioè la rinascita verde dell'Europa eliminando la valutazione ambientale strategica. Si ricorre a un escamotage, si dice che si superano transitoriamente le regole, la normativa che era stata prevista per far sì che possano essere fatte queste opere. Ebbene io voglio ricordare a tutti che per superare transitoriamente questa legge ci saranno poi delle opere ben poco transitorie che insisteranno sul nostro territorio per decenni e che se fossero mal costruite potrebbero costituire un danno più grande dei soldi che riusciamo ad intercettare perché superare la valutazione ambientale, comprimere i poteri dei comuni e dei consigli comunali a cercare di analizzare quello che è l'impatto sui propri territori di queste leggi e di quelle opere, cercare di limitare temporalmente la conferenza di copianificazione e addirittura chiedere di derogare a dieci articoli un'intera legge significa scavalcarla e di fatto annullarla. Questo è quello che è riuscito a fare in questo momento la maggioranza e ne siamo fortemente delusi perché riteniamo che si potesse invece intervenire in maniera migliorativa e che si è perso un'occasione per fare della Regione Toscana una Regione di cui si possa essere orgogliosi per la capacità di valorizzare le risorse che lo ricordiamo ancora il Movimento 5 Stelle grazie a Giuseppe Conte ha messo a disposizione. 1.750.000 euro da investire in iniziative dedicate ai giovani e alle giovani. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso di investire le risorse frutto dell'avanzo di bilancio dell'Assemblea legislativa nei confronti di una delle fasce di popolazione che ha maggiormente sofferto per la mancanza di socialità. Il bando si chiama Rigenerazione Toscana, si articola in quattro sezioni e ogni comune può chiedere su una sola di esse il contributo massimo di 15.000 euro. Scadenza fissata per il 16 maggio 2022. Era una scelta che noi abbiamo voluto fare con forza durante il periodo più difficile quello in cui tante ragazze e tanti ragazzi non riuscivano a vivere la socialità. Allora abbiamo deciso di individuare in iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze più giovani le risorse che sono frutto dell'avanzo del Consiglio regionale. Abbiamo chiamato questo bando voluto con forza a tutti i membri dell'ufficio di presidenza. Ringrazio i due vicepresidenti Casucci e Scaramelli e i due segretari Fratoni e Petrucci perché abbiamo deciso di individuare Rigenerazione Toscana come momento di ripartenza rivolto ai più giovani. Quindi rigenerazione culturale, penso alla street art, rigenerazione sociale con spazi anche autogestiti di aggregazione giovanile oppure rigenerazione inclusiva con i parchi gioco inclusivi rivolte alle ragazze e ragazzi più giovani o quella che io chiamo rigenerazione musicale per far ripartire eventi nelle nostre città. Un milione e 750 mila euro che mettiamo a disposizione dei comuni della Toscana fino ad un massimo di 15 mila euro a progetto e con un cofinanziamento del 20% minimo da parte dei comuni. Noi speriamo che tutti i comuni della Toscana possano partecipare, possiamo finanziare più iniziative, più progetti. Un bando con il quale finalmente si dà attuazione alla legge regionale 3 del 2022 che utilizza le risorse derivanti dall'avanzo di bilancio del Consiglio regionale. 1.750.000 euro destinati ai comuni per scopi di promozione sociale, culturale, di aggregazione, la street art, l'identità, il tema dei parchi giochi inclusivi per i ragazzi e bambini diversamente abili. Un'attenzione speciale da parte del Consiglio regionale verso le nuove generazioni così come è previsto dallo stesso articolo 3 dello Statuto perché vi è proprio questa menzione della salvaguardia e della promozione della vita delle generazioni in future. E quindi questo è veramente quello che abbiamo fatto tutti insieme perché ricordo che la stessa legge regionale è stata approvata praticamente da tutti i gruppi consigliari e questo è un bel segnale che diamo verso l'esterno che il Palazzo del Pegaso offre ai cittadini toscani. L'idea nasce da provare a mettere insieme i ragazzi, i giovani e soprattutto nei comuni e le associazioni provare a trovare degli spazi, dei luoghi di aggregazione. Questo è il punto che a me particolarmente sta a cuore. Quindi la possibilità per molte persone di ritrovare anche a livelli di socialità dove la pandemia aveva un po' allentato queste relazioni. Ovviamente altri progetti che poi possono riguardare anche l'arte di strada, possono riguardare ovviamente la produzione di festival, di concerti, di iniziative, la riqualificazione del verde, qualsiasi progetto che consenta alle persone di stare insieme con altre persone. Il livello di relazione si è interrotto, è complesso oggi riuscire a ricostruirlo. Quindi noi dovevamo avere uno strumento che desse ai ragazzi in particolar modo delle opportunità che purtroppo la pandemia in alcuni casi e in molti casi ha interrotto, andando anche a vedere i danni che si sono creati soprattutto agli adolescenti, alle nuove generazioni rispetto all'impossibilità di creare una relazione con l'altro. Quindi mi auguro che ci sia una risposta importante dei comuni toscani, i comuni possono compartecipare, ma credo che la differenza la debbano fare l'autogestione, l'autorganizzazione, le iniziative che nascano dalle associazioni dove i comuni per noi diventano più che altro un soggetto di garanzia istituzionale nel momento esclusivo della presentazione delle domande. L'arte, la cultura, la creatività in genere, troppo spesso, dimentichiamo questo aspetto, troppo spesso le nuove generazioni sono in qualche modo ammorbate da un mondo che le porta in aridirsi. Ecco, noi pensiamo che sia giusto che le istituzioni, che il Consiglio regionale, e su questo abbiamo lavorato, invece incentivino i talenti anche in questo ambito, nell'ambito artistico, culturale, che in qualche modo incentivino la creatività delle nuove generazioni, perché se è vero che la bellezza salverà il mondo è altrettanto vero che le istituzioni devono investire un po' in bellezza e troppo spesso, purtroppo, siamo portati ad affrontare, specialmente nel mondo della politica, le cose che non funzionano, le cose che vanno male. Siamo portati a occuparsi dei problemi e delle criticità. Ogni tanto soffermarsi invece sulle potenzialità e sui talenti, specialmente dei più giovani, invece fa bene a tutti, fa bene alla politica, fa bene appunto al mondo, perché la bellezza salverà il mondo. L'aeroporto di Firenze è al centro del dibattito in Commissione Ambiente e Territorio alla presenza del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Tra le questioni affrontate, anche quella relativa ai quartieri interessati dai sorvoli nell'attuale configurazione della pista e delle eventuali iniziative che la società di esercizio dell'aeroporto potrebbe assumere per ridurre ancora l'impatto acustico. È stato molto interessante stamani l'audizione del Presidente Gianni in ordine a una mozione sollevata dal Consigliere Galli sui rumori legati all'aeroporto, insomma, ai voli. Il Presidente Gianni è partito da lontano, ha fatto un escursus rispetto alla genesi del posizionamento della pista, ci ha parlato del nuovo progetto e dei tempi del nuovo progetto ma soprattutto a noi fa molto piacere, ha accettato la nostra richiesta di sollecitare la presenza in Commissione dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti che verrà a dare le spiegazioni che riterremo, soprattutto vorremmo sapere da lui cosa intendono fare per mettere in sicurezza, perlomeno dal punto di vista acustico, dei rumori quelle abitazioni in attesa che la nuova pista posizionata in maniera diversa riduca moltissimo il cono, quello che viene chiamato il cono acustico e quindi questi problemi non ci saranno più. Nel frattempo però vorremmo capire cosa poter fare per quei cittadini. Si conclude qui questa puntata di Cronache e Commenti. Grazie per la cortese attenzione, l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie a tutti.